Scopriamo insieme chi è Enoch Barois, il fratello minore di Mario Balotelli. Classe 1993, tre anni più giovani di Mario, Enoch è anche lui calciatore, ha militato nelle serie minori tra Inghilterra, Malta e Italia, dove attualmente gioca in serie D. Pallone a parte è già conosciuto per alcune apparizioni televisive, oltre che per il suo sfrenato presenzialismo sui social. A differenza del più noto fratello, conserva il cognome del padre naturale. Mario ed Enoch non sono cresciuti insieme. Il primo, all'età di tre anni, è stato affidato alle cure della famiglia Balotelli a causa di problemi di salute e dalle difficili condizioni economiche della famiglia di origine. Enoch, invece, è cresciuto con i genitori biologici e le sorelle Abigail ed Angel. I due fratelli non hanno mai interrotto i rapporti ed oggi sono più uniti che mai, non solo dalla passione calcistica. Come detto, Enoch è una vera star dei social, tanto da vantare su Instagram più di 230.000 followers. A settembre 2020 ha accettato l'invito di Alfonso Signorini, prendendo parte alla quinta edizione VIP del Grande Fratello. Altro reality, quindi, per la famiglia Balotelli. Già Abigail si era messa in gioco sotto le telecamere, partecipando ad un'edizione dell'Isola dei famosi.